Li avevamo visti uscire dal piccirillo di Santa Maria Capoavetere a criniera bassa e col cuore pieno di mestizie. Oggi, già dal momento in cui hanno calpestato il prato del Città degli Ulivi, avevano Cipiglio fiero e passo deciso, diremmo quasi marziale. E così anche l'armonioso Nardodi, mister Pasquale De Candia, tanto caro alla nostra piazza, ha dovuto capitolare. Claudio De Luca si fida ancora della muraglia Petta Lanzolla dietro, esterni un sempre più convincente Silvio Colella ad un coraggioso Colaci. In mediana, Turubiason e Manzo a cantare e a portare la croce insieme. Più in là, i due trequartisti marcabili, Danna e Palumbo, con Capitan Lattanzio, ad avvicendarsi davanti con Bomber Santoro. Il Magister Molfettese risponde con un arguto 4-3-1-2. Il mestiere di De Giorgi e Masetti a protezione di Lovecchio in porta. Mengoli, Van Ransbeck e Cancelli a giostrare in mezzo. Mancarella ad inventare per il duo tremendo Caputo-Cristaldi. Si parte ed è solo il signor Caputo, occhio di lince, a fermare Santoro che su Bijù di Danna aveva insaccato al quinto, dopo il volo di Lovecchio, buono solo per i click dei fotografi. 120 secondi, invece, è tutto vero. Restituisce il favore il puntero di San Giovanni Rotondo all'indemoniato ex Fermana che uccella di tra le gambe il portiere Neretino. Minuto 27, destro impreciso di Mancarella. Alla mezza ci prova Cancelli, blocca con sicurezza Lonoce. Davvero impeccabile questo pomeriggio. Sei minuti dopo, infatti, neutralizza senza affanno la conclusione di Van Ransbeck. Il furetto già stato Brindisino impazza sulla destra. Serve Santoro che calcia schermato dalla difesa Granata, poi esterno di Carlos sul fondo. A tre dall'intervallo, Danna imbecca chirurgico Santoro che prima viene contrato e poi si avvita in una mezza girata strabica. Dopo la pausa, i 22 protagonisti tornano in campo a ranghi invariati. Corner e Zuccata altissima di De Giorgio al secondo. Raddoppio nero-verde al minuto 14, angolo di Manzo, petta arpio nel cuoio, Lovecchio ribatte, rabbioso tappi il vincente del centrale difensivo. Al diciannovesimo, il diecinostro si invola sulla sinistra, assist per Ricchi che spara fuori. A cavallo dalla mezz'ora, prima Taurino illumina per il terzino in plume, la sfera attraversa l'area come un brivido lungo la schiena di Salentino. Poi un guarnaccio impavido ispira il puntero andriese schermato dai mastini avversi. A sette dall'epilogo, il fantasista attascabile ancora per l'attanzio, scivolata lontana dal bersaglio grosso. In pieno recupero, Tonitro Mancino di puntorire dal limite, il goalkeeper ex Juventus si libra in volo e con la mano di richiamo respinge. Il neontrato Granata ci riprova qualche istante dopo, ma il cuoio finisce per forare le nuvole. Al tramonto di un novembre luttuoso dunque, un franco successo per gli uomini di Francesco Rossiello, che permette loro di scalare un gradino e piazzarsi ad una lunghezza dalla capolista Francavilla Insigni.